Ok ragazzi, nuovo video, oggi parleremo dei problemi di digestione, come risolverli e come approcciarci. E' un tema in realtà super complicato e parto con dirvi che non posso assolutamente per logica di cose darvi una risposta generale. Cioè, parlare di problemi di digestione, o problemi di digestione, è un po' come dire sto male, come faccio a stare meglio, come mi passa, ok? Dipende che cosa hai, e i problemi di digestione sono causati da tantissimi, tantissimi fattori. Però, due aspetti su cui ragionare. Il primo aspetto è che si vede sempre di più come il discorso della salute gastrointestinale impatti in positivo su tantissimi fattori del nostro quotidiano. A partire dal nostro well-being, come ci sentiamo, in modo da approcciarci alla vita, alla nostra euforia nella giornata, se vogliamo. Quindi una salute in qualche modo psichica, ma anche una salute fisica e una performance fisica. A partire da come ci sentiamo nella nostra giornata, quindi salute e performance psichica, per poi arrivare anche a un tipo di performance fisica, quindi i nostri adattamenti ipertrofici a cui tanto teniamo. È sicuramente un tema che si sta approfondendo molto nella comunità medica e scientifica ultimamente, quindi vale la pena parlarne, parlarne e riparlarne ancora. Quindi mi fa super piacere fare questo video. E la seconda osservazione è che, bene o male, tutti noi, Homo sapiens moderni, siamo in disbiosi. Abbiamo delle problematiche gastrointestinali che partono da quello che è definito il nostro intestino, asse e cervello, e in qualche modo una centralità dell'intestino, del sistema gastrointestinale nel nostro organismo. Quindi tutto lo stress che noi accumuliamo va a ripercuotersi in negativo. Tutti gli stati di infiammazione subclinica, di cui abbiamo parlato spesso, vanno a ripercuotersi in negativo e compromettono la nostra funzionalità gastrointestinale. Quindi non è strano che in tutte le live che faccio su Instagram ogni mattina, mi raccomando seguitemi, in tutte le live che faccio su Instagram, una delle domande che viene fatta normalmente è ho problemi di digestione e come risolverlo. Per cui il mio tentativo in questo video è di darvi un approccio spendibile, pratico, che cerca di andare a impattare su tutti quelli che sono gli aspetti della salute gastrointestinale, diviso in diverse fasi. Per quanto sia importante mantenere una condotta, un comportamento alimentare di integrazione positivo nei confronti della salute intestinale, quindi che incentivi la salute intestinale durante tutto l'anno, 365 giorni l'anno, è anche importante distinguere quelle che sono delle fasi acute e delle fasi, diciamo un comportamento acuto e un comportamento cronico. Perché è normale che anche se abbiamo una buona condotta, in alcuni momenti ci si presentano delle difficoltà di natura gastrointestinale. Mettiamo caso, periodo di bulk, sto mangiando veramente tantissime calorie, a un certo punto il mio sistema intestinale non ce la fa semplicemente più e quindi devo dargli una mano, in primis con l'alimentazione magari scaricando un pochetto, in secondis con tutta una serie di altri interventi. Di nuovo, cambio del lavoro, è tutto molto più stressante, la zona in cui devo lavorare è molto più lontana da casa, mi faccio che sto in mezzo al traffico, questo e quest'altro, sopraggiunge una fonte di stress molto importante ed ecco che di nuovo c'è uno scombussolamento da un punto di vista gastrointestinale. Quindi è molto molto comune, ci possono essere sempre delle situazioni acute ed è qua che vogliamo intervenire noi. Quindi andiamo ad identificare due diverse fasi, un comportamento acuto che può essere identificabile in un lasso di tempo di 4 fino a 6 settimane e un comportamento cronico. Quindi iniziamo con questa prima fase. Ho un problema di digestione, è successo, non so quel quale casino per cui inizio ad avere problemi di digestione, quindi può esserci del meteorismo, della stipsi, difficoltà ad andare in bagno, difficoltà a digerire, può esserci un reflusso. Come capite ovviamente ogni problema andrebbe analizzato e affrontato in maniera specifica. Per cui il primo consiglio è sicuramente quello di andare dal gastroenterologo per farvi dare un occhio, per vedere un attimo e valutare la situazione, fate una visita e se il gastroenterologo è bravo dopo la visita avete tutte le chiavi che vi servono per comportarvi. Però in parallelo vi dico io personalmente su me stesso, su di me, come intervengo. Allora partendo con l'alimentazione, la prima cosa in cui intervengo è il quantitativo proteico. Le proteine, soprattutto di origine alle mani, tendono a creare un ambiente putrefattivo a livello intestinale. Quindi un primo passo, sicuramente una situazione acuta, è quello di abbassarle fino a un totale di proteine totali, quindi proteine nobili, non nobili, eccetera, di circa un grammo per chilo di peso corporeo. Quindi nel mio caso mi metto intorno ai 100 grammi al giorno. Quindi le riduco anche fortemente. Ovviamente cercherò in questa percentuale di avere quante più proteine derivanti da fonti nobili possibili e su questo arriveremo proprio tra un secondo, perché il secondo punto è quello proprio di gestione e scelta delle fonti di carboidrati. Quindi per quanto riguarda i carboidrati in realtà non vado a modulare troppo il quantitativo giornaliero, quindi diminuendo le proteine diminuiranno anche le calorie, ma va bene così in questa fase acuta. Però a meno che non mi sento molto impallato, generalmente intasato, allora non diminuisco ulteriormente i carboidrati, ma li mantengo così come sono. Però la cosa che vado a fare è cercare di diminuire un po' tutte le fonti che tendono ad avere un forte quantitativo proteico, quindi sicuramente tolgo tutte le fonti integrali, tolgo anche l'avena e vado a prediligere soprattutto patate e patate dolci, che hanno un minimo contenuto di fibre all'interno della buccia, però il contenuto proteico è molto più basso rispetto anche, per esempio, allo stesso riso. Stando alto di carboidrati, comunque tendenzialmente in fasi di bulk soprattutto, logicamente andare a fare questi piccoli cambiamenti impatta molto su quella che è il quantitativo di proteine che vado ad assumere in maniera indiretta da fonti non nobili, quindi logicamente andando a diminuire molto l'input proteico giornaliero fino a un grammo, voglio assicurarmi che la maggior parte provengano da fonti nobili. Ora, ciò detto per quanto riguarda le fonti di grassi, tolgo qualsiasi tipologia di frutta secca, quindi in una fase acuta la mia fonte di grassi principali è olio extravergine di oliva e in piccole quantità anche l'olio di cocco, che ha un potere antibatterico. Per alcuni funziona molto bene gli MCT, l'MCT Oil, però personalmente non vado ad utilizzarlo, in quel caso come pre-nana può essere interessante perché facilita la motilità prima di andare a dormire sostanzialmente, quindi al mattino quando ci svegliamo. E per quanto riguarda il discorso delle fibre, tolgo come detto tutte le fonti integrali e il quantitativo di fibre giornalieri lo mantengo, però prevalentemente da frutta e verdura, quindi questi sono due aspetti che vado a mantenere all'interno della mia alimentazione e più o meno mi aggiro sui 30-35 grammi di fibre al giorno, quindi in questo caso non voglio assolutamente esagerare perché problemi di digestione vuol dire che l'intestino ha faticato, quindi per quanto un tot di fibre sarebbe quello ideale c'è anche una difficoltà a gestire le stesse. Questo per quanto riguarda il comportamento da un punto di vista alimentare, in parallelo intervengo da un punto di vista di integrazione, qua il primo punto è quello di ripristinare, incentivare quella che è la microflora batterica perché è quella che molto probabilmente viene danneggiata. Ora ovviamente il primo punto è quello dell'integrazione di pre-probiotici. Io personalmente utilizzo in fasi acute una combinazione di Neoflor, due capsule dal giorno, che è un integratore che contiene, il Neoflor è un integratore che contiene 56 miliardi e soprattutto da ceppi diversi, quindi è un integratore molto molto versatile e assolutamente completo, è veramente fenomenale e sapete che il ramo delle integrazioni pre-probiotici della linea Yamamoto Research appa la punta di diamante dell'azienda. D'altro canto però inserisco insieme al Neoflor anche il Bacillus Coagulants che ha la particolarità come ceppo batterico di avere un effetto di driver di potenziamento degli altri ceppi. Ora se volete un video specifico sul tutto questo discorso dell'integrazione di pre-probiotici, dei vari ceppi, delle differenze, che è un mondo affascinante, un mondo di merda sotto certi punti di vista però è un mondo assolutamente affascinante, però scrivetelo nei commenti che delego a Giorgia perché è molto più preparata di me sull'argomento. Però questa combinazione in fasi acute funziona. Tutte le mattine a digiuno appena sveglio. Insieme questo però ad altri due integratori che favoriscono quello che è un ambiente positivo, un ambiente vivo a livello sempre gastrico intestinale. Agiscono più sull'environment, più sulla microflora stessa, che sono il Cetribol, ossia il glutatione ridotto, il Cetria, che ha un potentissimo potentissimo potere antiossidante e il Black Guardian, che ha tutta una serie di elementi all'interno, quindi ho fatto un video poi specifico in merito proprio al Girl Guardian, che hanno un potere anti-infiammatorio come la curcumina, antiossidante e favoriscono in questo senso questo che è l'ambiente. La vedetela così, i ceppi batterici tendono ad agire anche sull'ambiente circostante. È normale perché tendono a promuovere un ambiente che permetta di non solo farli crescere inutili, ma anche di proteggerli. Quindi per l'esempio con la creazione dei biofilm attraverso i quali vanno a proteggerci, che devono essere rotti. Per esempio la N-acetilcistina, la NAC, ha un potentissimo effetto di rottura di questi biofilm per intervenire in situazioni di SIBO, quindi overgrowth batterico o fungineo. Per cui questo per dire cosa, e di nuovo nel caso lo approfondiamo in un altro video, come detto il discorso intestinale è veramente infinito, per dire che non soltanto dobbiamo intervenire sulla microflora batterica, quindi sul ripristinarlo, ma anche sull'ambiente circostante, proprio per incentivare l'attecchirsi di questi ceppi e la loro riproduzione. Questo sempre al mattino appena sveglio. Poi in parallelo in alcune fasi in cui magari sto alto alto di carbo, quindi il quantitativo di fibre giornaliere in realtà lo raggiungo anche semplicemente mangiando le patate con la buccia, il riso eccetera, e quindi mangio poca frutta e poca verdura, allora in questo caso inserisco anche il Super Greens, che contiene tutta quella serie di fitocomposti e fitoestratti che sono indispensabili e assolutamente funzionali in questo caso, ma che normalmente, in questo caso specifico, non vado ad assumere con frutta e verdura. Però questo è abbastanza raro perché normalmente di frutta e di verdura ne mangio in abbondanza, o meglio il giusto, perché mi piace veramente tanto e Giorgia la prepara in maniera veramente divina, quindi non ho problemi da questo punto di vista. Ok, ultimo aspetto di questa fase acuta per quanto riguarda l'aspetto integrativo è l'utilizzo di enzimi digestivi nei pasti, quindi nello specifico io vado ad utilizzare l'enzymasic nei pasti più ricchi, più importanti, soprattutto da un punto di vista proteico. E in questo caso dovete un po' vedere voi in base alla vostra alimentazione, quando sto in massa molto spinta, nel senso che sto a massa addentrata, quindi le calorie sono molto alte e tutti i pasti sono molto ricchi, allora semplicemente l'enzymasic è veramente in quasi tutti i pasti, soprattutto quelli intorno all'allenamento. E proprio parlando di allenamento, il consiglio è quello, in questa fase, se avete visto che la performance andava a vacillare, scaricate, scaricate soprattutto da un punto di vista neurale, quindi magari se volete tenere l'intensità elevata, diminuite in meno i carichi e aumentate le ripetizioni molto banalmente, però cercate di shiftare su lavori un po' più metabolici che tendono a creare meno impatto neurale, quindi da un punto di vista intestinale ci saranno meno ripercussioni e soprattutto un aspetto, togliete nel caso in cui lo state facendo il cardio heat, ma mantenete un tipo di cardio un po' più blando e soprattutto lavorate molto con l'EAT che può aiutare molto il discorso della digestione dopo i pasti, quindi dopo aver mangiato 10-20 minuti di camminata facilitano e aiutano la digestione. Questo per 4-6 settimane che dovrebbe essere un tempo sufficiente a affrontare proprio questa fase acuta e quindi riecolibrare la situazione. Da qua però vogliamo avere un comportamento come detto alimentare almeno in un primo periodo, nei periodi un po' più stressanti che ci permetta di mantenere e di incentivare questa salute gastrointestinale che abbiamo raggiunta. E vediamo come fare. Allora, la seconda fase la faccio durare di solito almeno più di 8 settimane, quindi almeno 8 settimane volendo anche di più. In primis le proteine vado ad aumentarle in giro di 2-3 settimane tornando ai livelli precedenti, rinserendola gradualmente e predileggendo soprattutto il pesce che tende ad essere molto più digeribile. Pesce e carne rossa grass fed. Nel mio caso sono le due fonti più digeribili. Nella maggior parte delle persone le carni bianche sono più digeribili, però il problema è che per come vengono allevati, trattati e lavorate le carni tendono a dare più problemi, tendono a creare dei fenomeni infiammatori. Per questa ragione è molto più difficile controllare le carni bianche per quanto riguarda il discorso dell'allevamento e della produzione. Così non è per le carni rosse, perché se c'è la certificazione grass fed allora siete sicuri che sono animali che sono stati allevati al pascolo. Per cui io personalmente la digerisco molto bene la carne rossa, però se non la digerite bene allora evitatela e magari preferite la carne bianca, anche se avete un allevatore di fiducia o macellaio di fiducia allora utilizzate tranquillamente la carne bianca. In sostanza le proteine dovrebbero derivare da fonti quanto più digeribili possibili e inseritele e aumentatele gradualmente. Di nuovo nel giro di 2-3 settimane tornando ai livelli precedenti che più o meno possono essere 2-2,5 grammi per kg di peso corporeo. Per quanto riguarda, per le donne è anche un filino meno, nel senso che per le donne se siete soggette a fenomeni di infiammazione, di gestione, di problematiche gastrointestinali in generale, allora di proteine tendete a stare basse e mantenete su 1,5 grammi per kg di peso corporeo, non di più. Non c'è bisogno di esagerare, anche perché c'è una tendenza dell'organismo a utilizzare gli amminoacidi come substrato energetico di riserva in periodi di catabolismo, di cat, eccetera, molto meno spiccata rispetto all'uomo. Quindi in sostanza le donne catabolizzano meno, per cui non conviene in generale spingere tanto da un punto di vista proteico. Noi personalmente nelle preparazioni, contest prep delle ragazze, da un punto di vista proteico suggeriamo sempre di stare anche un filino basso e non esagerare, perché poi c'è questa tendenza a creare ambienti più interfattivi a livello gastrointestinale, perché le donne tendenzialmente somatizzano un po' di più lo stress generale. Lo gestiscono meglio, ma lo somatizzano molto di più, quindi ci sono più problematiche gastrointestinali. Ok, ciò detto per quanto riguarda le fonti di carboidrati, reinserire gradualmente altre fonti, partendo dall'avena, che è una fonte che io personalmente trovo fantastica, contiene beta glucani, quindi impatta positivamente sul profilo di salute, il panel lipidico ematico, quindi è sicuramente una fonte da inserire e logicamente ha un buon contenuto di fibre, quindi questo non può che farci bene. Quindi reinserire tutte le diverse fonti, gradualmente anche in questo caso, non dovrebbero esserci problemi da questo punto di vista. Stessa cosa vale per i grassi, in questo caso è la prima fonte che inserisco al bullo di mandorle, che rispetto ad altre frutte secche all'altra frutta secca. All'altra frutta secca tende ad avere un rapporto omega 3 e omega 6 più alto, quindi più vantaggioso, e poi eventualmente anche all'altra frutta. Se nei casi in cui dei soggetti hanno problematiche gastrointestinali frequenti, anche donne, evitate il burro di arachidi, perché gli arachidi sono dei legumi, quindi possono creare tutte quelle problematiche che sono comuni a tutti i legumi. Ora, per quanto riguarda invece la gestione dell'integrazione, un integratore che io non abbandono mai durante tutto l'anno è proprio il Neoflor, che mi permette di mantenere una microflora batterica sana. Questo vuol dire che impatta positivamente sulla mucosa intestinale, impatta positivamente sul sistema immunitario, impatta positivamente su tutto, veramente tutto ragazzi. E il problema principale è che in molte culture, in tutte le culture alimentari di tutto il mondo ci sono alimenti fermentati, ok? Il processo di fermentazione, anche detto di decomposizione, perché di questo si tratta, è quel processo che porta alla creazione di batteri all'interno del cibo. Quindi fino a un certo punto, fino a che l'alimento non è proprio decomposto, rende l'alimento molto più funzionale in un certo punto di vista, da un punto di vista di nutrimento del sistema gastrointestinale. Pensate semplicemente in Giappone, io la cosa di cui mi stupivo quando ero più piccolo è che ogni volta che andavo in Giappone, che facevo viaggi, per cui io sono stato sempre, otaku sono stato sempre fissato, stavo benissimo con la pancia e non capivo perché. Allora forse perché mangio il sushi, forse per le alghe eccetera, in realtà è perché ci sono tantissimi alimenti fermentati, sono molto più comuni i pickles, per esempio vanno ad essere inseriti proprio in qualsiasi pietanza, dal sushi, dal ramen eccetera, che sono alimenti fermentati che impattano in maniera positiva. Nella nostra cultura tradizionale italiana, culinaria, ci sono tantissimi alimenti fermentati non in quella più attuale, dove tutti i sistemi di produzione industriale prevedono una sterilità per ragioni di igiene dal punto di vista della produzione del cibo. Quindi è molto più difficile andare a mangiare quelli che possono essere degli alimenti probiotici, a meno che non ce li creiamo da noi, quindi non creiamo da soli quello che può essere un tempeh piuttosto che della soia, piuttosto che dei crauti fermentati, cosa che mio padre per esempio fa in casa, e questo ci dà veramente una mano. Però in tutti gli altri casi il mio consiglio è quello di andare ad utilizzare il Neoflor, quindi un integratore al mattino proprio per questa mancanza, almeno per questa fase, poi se successivamente state bene potete staccarlo un periodo, però tendenzialmente ha un impatto sicuramente positivo perché protegge in qualche modo la microflua intestinale. Neoflor e in parallelo anche la Cetria, il Cetribol, quindi glutatione ridotto che ha un tasso di biodisponibilità elevatissimo nonostante ha un uso, un utilizzo orale, ed è un integratore veramente fantastico per i well-being in generale, anche da un punto di vista di impatto sull'infiammazione, sullo stress ostitativo e di conseguenza sull'infiammazione, tutto questo a cascata ci porta ad un effetto benefico sulla salute intestinale. In alcuni casi consiglio anche di integrare con della NAC o per esempio con i Black Guardian, proprio per cercare di evitare l'insorgere e il crearsi questi biofilm all'interno che vanno a proteggere dei batteri negativi, dei batteri cattivi in qualche modo, e quindi siamo sicuri di mantenere l'ambiente quanto più più ulito possibile, in modo che a livello di microflua i nostri batteri attecchiscano. Sto cercando di semplificare tutto il discorso, perché da un punto di vista dello studio della microflua intestinale è veramente, veramente complesso, però vorrei che il messaggio passasse in maniera chiara, senza pipponi del caso, perché mi criticate sempre i pipponi che vado a fare. Ok, questo quindi generalmente per quanto riguarda il mio intervento, e non vado ad utilizzare normalmente di enzimi digestivi, se no magari in fase book spinto in cui nel post-workout voglio assicurarmi di mangiare, magari mangio tre, tre etti e mezzo di riso, più magari la carne bianca o il merluzzo, quindi voglio assicurarmi comunque di digerire tutto quanto al meglio, perché poi dopo due ore c'ho il post-post-workout con un altro due etti di riso, almeno in questo momento è così per esempio, quindi logicamente è abbastanza impegnativa la situazione, quindi voglio assicurarmi di digerire tutto quanto al massimo, però mi baso un po' sulle sensazioni da questo punto di vista. E sempre ricordatevi la passeggiata dopo aver mangiato, possibilmente è qualcosa che vi aiuta sicuramente tanto. Ragazzi questo è tutto per quanto riguarda il mio approccio, bene o male per quanto riguarda la digestione e soprattutto il superamento di fasi acute di problemi digestivi, come detto è un approccio abbastanza generale che tendenzialmente funziona senza andare a vedere la causa, però il primo consiglio è sempre valido, ragazzi andate da un gastroenterologo e vedete un attimo qual è la causa specifica del problema e intervenite di conseguenza, perché è sicuramente il modo migliore per approcciarsi. Però detto questo, mentre state facendo magari gli accertamenti del caso, oppure aspettate che passi il lockdown per poter andare dal gastroenterologo, non so in Italia com'è la situazione adesso, però comunque in tutti gli altri casi, nel frattempo questi sono sicuramente dei consigli utili che potete spendere. Qualsiasi domanda come al solito qua sotto sarò ben lieto di rispondere e ci vediamo al prossimo video.